Se si votasse oggi, quale partito voterebbe? È la domanda del sondaggio realizzato da Tecne per Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete4. Nella puntata andata in onda ieri sera 26 febbraio sono stati illustrati in diretta i risultati della rilevazione che è stata effettuata tra il 25 e il 26 febbraio, quindi durante le elezioni regionali in Sardegna vinte dalla candidata del centrosinistra, la grillina Alessandra Todde, che ha sconfitto il centrodestra rappresentato da Paolo Truzzu. Punto ecco cosa è emerso, Fratelli d'Italia, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, resta il primo in classifica e anche se in leggero calo, meno 0,1%, è dato al 28,2%. Seguito dal partito democratico di Ellis Klen che è stabile al 20%, punto perde lo 0,1%, anche il Movimento 5 Stelle con la guida di Giuseppe Contè che scende al 15,9% e la Lega di Matteo Salvini che ora si attesta 8,1% le calbanesi per cento. Fa meglio Forza Italia che, dopo la conferma di Antonio Tajani, guadagna due decimi di punto e sale al 9,3%. Punto per quanto riguarda gli altri partiti, salgono sia Verdi e Sinistra, che registra un 4,1% più 0,1%, azione di Carlo Calenda al 3,9% più 0,2% e Italia Viva al 3,2% più 0,1%. Perde lo 0,1% invece più Europa che si ferma al 2,4%. Perdi lo 0,1% più 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 0,1